Altri passi in avanti per la Banca di Prato. Il gruppo di professionisti che da tempo sta lavorando al progetto con l'obiettivo di portare in città un istituto di credito attento alle esigenze di famiglie e imprese, capace di ricepire i bisogni del territorio, è pronto per la terza fase. Il prospetto informativo verrà presentato entro questo mese o comunque all'inizio del prossimo, entro un mese saremo in consuma. Ci vorranno mesi per avere una risposta dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ma non saranno mesi a vuoto. Continueremo nella nostra fase di pubblicizzazione di questo progetto e nella ricerca di ulteriori adesioni, stiamo ampliando per l'appunto il Comitato dei Promotori. Ci sono diverse adesioni di imprese, di comuni, ricordiamo Verno, Veiano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato stessa, imprese come Consiag, Copp, Bisenzio e Ombrone e anche altre società come la SM oppure Enti come la Wisp. Il prossimo autunno potrà cominciare la raccolta dei soldi. Avremo una finestra di un anno per poter raccogliere la sottoscrizione, poi dovremo costituire la società, quindi la cooperativa, la Banca Popolare di Prato. Si spera nel 2015 di poter iniziare l'operatività della banca. Intanto la Banca di Prato tiene la promozione da tre esperti del settore bancario, Renato Busti, consulente manageriale, Daniele Salvadori, direttore generale della Banca di Laiatico e Oliviero Roggi, docente di economia all'Università di Firenze. La Banca Popolare è un progetto che ha molte possibilità di successo, sia perché nasce in un momento di crisi e si struttura come crisi. È una banca che non porta uno storico negativo o delle problematiche come invece altre banche hanno.